Sono Ivano Albertini, socio del GPA, Guido di Cipolli Albertini, e abbiamo frequentato Dentali da maggio, sono passati sei mesi circa, la cosa più grossa che c'è stata è una forte motivazione da parte di questo corso, pochi ingredienti che fanno già la differenza, in questi mesi abbiamo ottenuto traguardi che non ci aspettavamo, quello che posso dire è che se prima gli sforzi c'erano ma non appagavano, adesso gli sforzi sono uguali, ma c'è una forte risposta positiva anche dal punto di vista personale, e quindi non hai la percezione di girare a vuoto, ma finalmente di applicare l'energia in un modo produttivo e sensato, ecco, le canalizzi le forze e quindi con pochi ingredienti e poche cose applicate già si ottengono forti miglioramenti. Non posso dire altro, è stato utile, è stato bello finora e speriamo di continuare così.